Lance, costruttori ed i rilancia l'ennesimo allarme al governo regionale. Un miliardo e 500 milioni di euro da utilizzare entro dicembre. Chiuse altre 1199 imprese nel settore. Gero Miciche. Oggi, lunedì 16 novembre, è il giorno dell'inaugurazione della bretella di superamento del blocco lungo l'autostrada tra Palermo e Catania. E, a cavallo delle stesse ore, l'Associazione dei Costruttori Edili Sicilia, Lance, rivolge al governo regionale l'ennesimo atto d'accusa appaventando la perdita di un miliardo e 500 milioni di euro di fondi europei se gli stessi non saranno utilizzati entro dicembre e denunciando la chiusura di altre 1199 imprese del settore con conseguente cancellazione di 15.000 posti di lavoro. Il presidente del lancio Sicilia, Santo Cutrone, chiede che il nuovo governo regionale, non appena sarà approvata la manovra finanziaria, cambi immediatamente passo, rinunciando all'assistenzialismo e puntando sul sostegno alle attività produttive come unica misura di politica economica capace di far uscire finalmente la Sicilia dalla crisi. Tanti, sottolinea Cutrone, sono i fattori negativi che inducono a temere un'imminente implosione del sistema con gravissime conseguenze sociali. Ad esempio la Sicilia è in ritardo ed è all'ultimo posto in Italia perché ha ancora da utilizzare un miliardo e 524 milioni di euro con il rischio non solo di perdere queste risorse non ancora impegnate, ma anche di non avere certezza neppure sui finanziamenti già attribuiti alle opere in corso di realizzazione e che non potranno essere completate entro tale termine. Cutrone osserva poi che se per ogni miliardo investito in infrastrutture si generano 17.000 posti stabili in edilizia, tra diretti e nell'indotto, la decisione di Regione Cipe di scippare 900 milioni di euro alle opere pubbliche per finanziare per pochi giorni 24.000 forestali ha cancellato per sempre la possibilità di creare 15.000 posti veri. Ed è una perdita che si aggiunge ai 90.000 licenziamenti nel settore dal 2008 a oggi, pari cioè a quasi quattro volte il bacino dei forestali e a 30 volte il bacino ex fiat di Termini Merese. E poi, infine, la Banca d'Italia, nell'aggiornamento congiunturale sull'economia della Sicilia nel primo semestre 2015, ha evidenziato che in edilizia continua costante dal 2006 il crollo dei bandi di gara, meno 24,4%, dell'occupazione, meno 2,8% e del numero di imprese, 1.199 in meno, mentre il credito bancario si è contratto del 3,4%. 4.199 in meno, mentre il 4.199 in meno, 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 il 4.199 Grazie a tutti.